eccoci qua come potete vedere ha dato una bella spolverata ma le strade sono perfette oserei dire questa qui è la spolverata che ha dato oggi bella nevicata sono venuti giù parecchi centimetri di neve tutto il fiume ciato ecco dall'albero potete vedere la quantità di neve che è scesa che non è poca adesso qua sta iniziando già un po' a sciogliersi ecco se lascio la bici sotto la neve ecco la quantità di neve vedi il profilo un'altra bici innevata